Salve a tutti e benvenuti a questa nuova edizione di Globus Sport News, il TG sportivo a cura della nostra redazione. Iniziamo parlando di calciomercato. Mattia De Sciglio si avvicina grandi passi alla Juventus. I bianconeri avrebbero trovato l'accordo per il laterale del Milan e secondo indiscrezione trattativa sarebbero mai dettagli. Tra oggi e domani il cacciatore potrebbe svolgere visite mediche a Torino, aggregandosi ai nuovi compagni appena in tempo per partecipare alla tournée negli States che inizierà giovedì. Secondo i coligiani sportivi AS e Sport, il padre di Neymar nei prossimi giorni incontrerà a Parigi il proprietario del club transalpino Nasser Al-Khelafi. Trattativa molto complessa, considerando anche la volontà del Barcellona di non cedere il brasiliano e la clausola escessoria di ben 222 milioni di euro. La Samondoria punta decisa a Luciano Vietto, attaccante argentino dell'Atletico Madrid. Il 24enne nell'ultimo anno ha realizzato sei reti in 21 partite con la maglia del Sevilla. Il club più cerchiato vorrebbe acquistarlo in prestito, mentre i Colcio Nerso vorrebbero monetizzare la sua cessione. Passiamo alla Catania. Sarà venerdì 21 luglio alle ore 16.30 presso la Sala Congressi di Torre De Grifo la conferenza stampa di presentazione di Francesco Lodi, primo acquisto di questa sessione estiva di calcio mercato. Dopo l'ufficializzazione di Ramziar possa garantire un consistente numero di reti. A tal proposito è attesa in giornata la risoluzione del contratto tra Rachid Arma e il Pordenone, col marocchino conteso da Catania e Pisa. Chiudiamo col tennis. L'ottavo successo Wimbledon di Roger Federer regala allo svizio il terzo posto nella classifica ATP, sempre guidata dallo scozzese Andy Murray con 285 punti di vantaggio sullo spagnolo Rafael Nadal, quarto il serbo Novak Djokovic che ha superato lo svizio Sten Wawrinka ora quinto. Era questa l'ultima notizia per oggi. Vi ricordiamo che per rimanere aggiornati su tutte le notizie sportive potete collegarvi con il nostro portale www.globismagazine.it Domenico Sapienza è tutto, alla prossima. Ciao!